Buongiorno a tutti, ho il piacere e l'onore di aver accettato l'invito dell'amico Alberto Lonzelli a essere qui a fare il moderatore. Occupo pochissimo tempo, mi limito proprio ad introdurre l'enorme platea e importantissima platea dei soggetti che ora prenderanno la parola e quindi do subito la parola al senatore Romeo Massimiliano in rappresentanza della Lega. Buongiorno a tutti, intanto grazie al professor Alberto Lonzelli, un saluto alla Fondazione Lineare Salute e Sanità, che ringrazio per aver organizzato questo convegno, questo incontro per parlare di cure precoce e domiciliari e per fare in modo che oggi come oggi rispetto a quello che sta accadendo e quant'altro ci possa durante la pandemia essere almeno anche la possibilità di poter discutere, di potersi confrontare perché è giusto, di poter anche sollevare in alcuni casi qualche critica perché è giusto che la scienza dibatta. Ricordo uno dei più grandi pensatori della nostra storia, Cartesio, che diceva che il dubbio è l'origine della conoscenza. Ma sulle cure precoce e domiciliari mi soffermo molto perché l'8 aprile del 2021, poi ci sono collegati anche alcuni miei colleghi del Senato e di altri partiti, abbiamo approvato, era l'8 di aprile, un ordine del giorno in Senato all'unanimità col quale si chiedeva di superare l'attuale protocollo tachipirina e vigile attesa sul contrasto al Covid, ma di utilizzare quelli che erano alcune esperienze importanti che sono state messe in campo da alcuni medici nel cercare di il più possibile limitare le ospedalizzazioni. Diciamo che fino adesso non ci hanno mai dato più di tanto retta, però nel frattempo c'è da dire che siamo contenti che sono usciti alcuni studi, quindi noi non proponiamo nessun rimedio sciamanico o cose di questo genere, nessun rimedio stravagante, ma semplicemente rimedi e interventi che sono suffragati da evidenze di carattere scientifico. Bene, contenti che lo studio di Freddy Suter e Giuseppe Remuzzi sia stato pubblicato anche su alcune riviste che fanno parte del magazine The Lancet e che abbiano messo in evidenza che un intervento precoce, immediato, nella prima fase della malattia possa portare dei rimedi efficaci, possa evitare addirittura nel 90% le ospedalizzazioni. Ultimamente è stato pubblicato anche sul Corriere della Sera, quindi finalmente essendo stato pubblicato sul Corriere della Sera qualcuno comincerà a pensare che effettivamente sia vero e che esista questo studio. È uscito un libro pubblicato dallo stesso dottor Remuzzi e quindi insomma siamo contenti che finalmente si comincia a parlare anche di cure alla luce del fatto che le cure precoce domiciliari, ci tengo a ribadirlo, non sono alternative ai vaccini ma sono e possono essere complementari ai vaccini. Cioè quante armi abbiamo a disposizione per battere il Covid? I vaccini sono sicuramente l'arma più importante ma probabilmente non è l'unica, ce ne sono altre. Bene, usiamole tutte. Questo è il significato sostanzialmente perché poi su questi temi bisogna sempre stare attenti perché poi subito pensano che chissà che cosa si stia pensando o quant'altro. No, utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi noi siamo, sono molto onorato di essere qui, di ascoltare, di capire, di comprendere anche perché lo stesso direttore dell'Istituto Superiore di Sanità che lavora a stretto contatto con il Ministro Speranza di recente ha detto che insomma con questo virus l'immunità di gregge è un po' complicato a raggiungerla e che riusciremo a sconfiggere definitivamente il virus solo quando riusciremo a trovare una cura in grado di bloccarlo all'inizio. Bene, allora se la strada è quella, nel frattempo i vaccini hanno fatto assolutamente tantissimo, hanno fatto in modo di proteggere dalle forme gravi della malattia, se oggi ci sono così bassi contagi è merito dei vaccini, bene però in previsione anche futura dobbiamo cominciare a lavorare anche sul tema delle cure e proprio per questo prendere le esperienze che ci sono e lavorare in questa direzione. Quindi qualsiasi convegno, qualsiasi incontro che mette in evidenza, ripeto, delle terapie che sono scientificamente provate, ecco non certo chi viene a proporre delle cose come dicevo prima stravaganti, deve essere assolutamente considerato meritorio ed è importante che si discuta e si dibattia. Quindi grazie davvero a tutti quanti, sarò qui ad ascoltare e sarà mio interesse prendere appunti su un tema su cui chiaramente riguarda la politica che per prendere delle decisioni deve anche conoscere e sapere. grazie e buona giornata a tutti. Grazie, grazie senatore, faccio bene a non dire nulla perché piano piano esprimono già dei concetti che rappresentano il motivo per cui io oppure io misero rappresentante istituzionale dell'ordine dei medici sono qui appositamente a fare il moderatore di questo. Quindi ora passo la parola all'europarlamentare del Movimento 5 Stelle D'Amato Rosa. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io innanzitutto vi ringrazio e per l'iniziativa e per l'invito a cui intendo assolutamente aderire e partecipare attivamente in tutte le sedi, innanzitutto in quella istituzionale alla quale appartengono, ossia il Parlamento europeo. Mi scuso per non essere lì presente, ma una forte tracchite mi trattiene a casa. Io quindi intendo collaborare e allargare la partecipazione il più possibile all'interno del Parlamento europeo, nonché nelle regioni della mia circoscrizione, perché ritengo le vostre proposte fondamentali per uscire da questo periodo di crisi pandemica, ma io direi sindemica più che altro. Quindi ritengo che la prevenzione, la prevenzione primaria sia fondamentale, come ritengo che non sia sufficiente la profilassi vaccinale per uscire dalla pandemia. Pertanto le terapie precoci, evidence-based devono essere sostenute, finanziate e diffuse. Servono naturalmente persone dalle mani libere, che abbiano la capacità di discutere, di mettersi a confronto, anche e soprattutto nell'ambito scientifico. Si parla, si dice sempre, no scienza e coscienza, e questi sono i casi. Apprezzo molto anche la citazione dell'articolo 33 della Costituzione, la Costituzione così tanto bistrattata negli ultimi periodi, ed è un articolo che spesso viene citato in questo periodo. Invece è fondamentale ricordarci che la scienza è libera, è libero nell'insegnamento e quindi è fondamentale il dibattito sull'accettazione quindi del metodo scientifico che non deve essere soppresso in alcun modo e da nessuna, nessuna istituzione. Vi auguro buon lavoro, vi seguirò sicuramente in diretta e a presto. Grazie. Ora continuo col piacere di passare la parola ad un altro parlamentare e come vedrete abbiamo proprio tutto la platea, come dire, costituzionale, cioè materia ovviamente condivisa, condivisibile e trasversale quella di questo convegno. Quindi passo la parola alla senatrice Laura Stabile, rappresentante di Forza Italia. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per questa importante iniziativa. Noi già in agosto in Senato, insieme alla Lega, avevamo organizzato una conferenza stampa su questo tema e l'obiettivo era proprio quello di promuovere, in vista dell'autunno, di una probabile, se possibile, ripresa della pandemia, più strategie parallele, dato che il governo sta puntando e puntava principalmente sulla campagna vaccinale. Quello che mi ha colpito molto sul tema delle cure domiciliari sono stati gli attacchi mediatici, anche mediatici, che sono stati fatti, anche piuttosto violenti, ai medici, agli studiosi che praticano o propongono cure domiciliari precoci, con accuse che sono assolutamente illogine, inaccettabili e che rischiano di screditare il lavoro di queste persone e di questi scienziati spesso. Qui si parla di cure domiciliari precoci che sono un'alternativa alla vigile attesa voluta dal Ministero, che molte volte è significato in pratica l'abbandono del paziente a se stesso. Ovviamente abbiamo capito che qui nessuno pretende guarigioni miracolose. Si parla solo di diverse terapie possibili, la cui efficacia è dimostrata o almeno ritenuta molto probabile da studi scientifici e delle quali è provata la sicurezza. Io vorrei ricordarvi qualche esempio di qualche accusa, appunto, in logica inaccettabile che è stata fatta. Per esempio l'accusa di voler curare qualsiasi forma di Covid e di negare l'ospedalizzazione ai pazienti come stregoni utilizzando e pretendendo di debellare il virus con integrazioni alla dieta, con vitamine e cose di questo tipo. Come sentiremo, ovviamente nessuno pretende di azzerare gli effetti del virus con questi interventi, però ci sono interventi di efficacia provata o molto probabile che possono migliorare il decorso e gli esiti della malattia. C'è stata una ridicolizzazione, c'è stata l'accusa di voler curare le persone come cavalli con terapie veterinarie. Questo è stato il caso dell'ivermectina, che è un farmaco invece, che ha anche un utilizzo veterinario, però è un farmaco per uso umano, importante, sicuro e ampiamente diffuso del mondo per la cura di altre patologie, da parassiti. Allora, questo farmaco che è promettente anche nei confronti della Covid, dell'OMS non è stato ritenuto ancora da raccomandare, perché secondo l'OMS le evidenze scientifiche non sono ancora sufficienti, però l'OMS lo ammette nell'ambito di sperimentazione clinica che speriamo che producano ulteriori dati. Certo, l'OMS non è pensabile che l'OMS, non possiamo credere che l'OMS proponga per le persone, ammetta per le persone, anche se via sperimentale, terapie da cavallo. Tutto questo mi serve per lanciare un appello. Abbassiamo i toni, spegniamo queste polemiche, ritroviamo serenità e riportiamo questi argomenti nel loro ambito naturale, che deve essere quelle di un dibattito scientifico che sia ampio, che sia trasparente e che sia ovviamente sempre basato sull'evidenza scientifica e sulle prove che man mano la scienza ci produce. La scienza non è dogmatica, mentre invece spesso la comunicazione che abbiamo sentito sia da parte del Ministero della Salute che dei suoi organismi ci ha presentato argomenti come certezze granitiche e spesso chi invece su basi scientifiche poneva altri, poteva dubbi o proposte, è stato censurato oppure descritto come antiscientifico, mentre invece il lavoro, questo tipo di lavoro e il lavoro di queste persone va a benessere dell'intera collettività. Ancora grazie, resterò a seguire la conferenza con molto interesse e buon lavoro. Grazie, grazie senatrice, mi permetto di aggiungere brevissimamente una cosa io, se c'è un elemento che deve connaturare il medico nella sua opera è proprio il dubbio, il dubbio. Cambiamo camera e ho l'onore di passare la parola al deputato Zulezzi Alberto in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, grazie. Grazie, grazie molto dell'invito, io intervengo a titolo personale ma mi farò carico, come sto già facendo, di portare i dati che ci illustrerete a tutto il gruppo, è comunque bene che questo incontro sia online, così ho già cercato di fare pubblicità, spero che molti lo seguono. Io penso che sia fondamentale che la scienza sia libera, sia aggiornata, sia appropriata a modo da fare una sintesi che possa guidare la politica e non deve avvenire il contrario, il rischio che la politica prove a guidare la scienza cede molto grave. Bene che ci siano gli studi, che ci sia pubblicità degli studi anche oltre il mainstream, bene che si discuta nel merito di terapie precoci e io posso fare l'esempio della richiesta, dell'interlocuzione che abbiamo avuto con la fondazione Gimbe, non è stato facile perché c'è un metodo di creazione degli stessi studi che non è a mio parere tarato sulle pandemie, sulla necessità di provare anche qualche cosa sulle terapie domiciliari, è chiaro che non è assolutamente facile anche solo disegnare questi studi, non è una, secondo me è una cattiva volontà, ma però bisogna cercare di adeguarsi in fretta a scenari assolutamente mutati. Bene che parliate di terapie economiche ed efficaci e bene che ci sia appunto un'agibilità, una discussione scientifica che possa anche prevedere critiche e confronti costruttivi. Oggi parlerete di altre terapie non posso non citare che proprio oggi si parla di anticorpi monoclonali con un articolo del giornalista Mackinson che racconta di 60.000 fiale di anticorpi monoclonali a rischio scadenza e sapete bene che c'è un'indagine anche contabile sul fatto che dagli ultimi mesi del 2020 si poteva iniziare questo tipo di terapia, certo a livello sperimentale, però c'è davvero da seguire questo filone, anche perché adesso finalmente si inizia a proporle anche a livello domiciliare per i casi selezionati. L'articolo 33 della Costituzione è fondamentale, l'arte e la scienza sono liberi e libero nell'insegnamento e quindi bisogna dibattere accettando il metodo scientifico senza mai sopprimerlo. Si parla in questi giorni di debito immunologico nel mondo anglosassone, prevalenza di raffreddori e di virus respiratori sinciziali che stanno portando a centinaia di ospedalizzazioni perché non è stata sviluppata l'immunità per oltre un anno nei bimbi più piccoli. Questo deve far riflettere sulla necessità di pesare anche in relazione all'età le strategie e le conseguenze dei trattamenti e le conseguenze delle strategie offerte. È una pandemia nuova, c'è da stare molto attenti e da essere pronti a cambiare anche la stessa strategia. C'è da stare attenti ai casi di aviaria negli allevamenti anche in pianura padana e di altre patologie che potrebbero dare problemi, spillover e c'è da stare attenti al deperimento dell'aria che proprio in questi giorni sta affliggendo la nostra Lombardia. C'è da stare attenti alle falde acquifere inquinate, tutto quello che viene sparso, tutto quello che può mettere alla prova il nostro sistema immunitario che poi è la prima e più importante terapia che abbiamo a disposizione. Grazie molte. resto anch'io a sentire. Grazie onorevole. Una parolina anche qui prima di passare la parola all'altro parlamentare che abbiamo l'onore di averlo è che qualunque terapia, qualunque patologia può essere intercettata e ovviamente contenuta fin dall'inizio. Ovviamente poi la terapia, la malattia potrebbe, speriamo di no, ma può aggravarsi e allora serve un'intensità di cura maggiore. Aspettare di dover arrivare all'intensità di cura massima che è l'ospedale è semplicemente, diciamo così, una sciocchezza tecnica perché intervenire subito può contenere e quindi contribuire a ridurre la pressione sulle parti di acuzie gravi che sono gli ospedali. Quindi ora ho il piacere di ridare la parola a un altro parlamentare, ricambiamo camera, al senatore Lucio Malan, rappresentanza di Forza Italia. Grazie. Grazie. Scusate, fratelli d'Italia, ho sbagliato. Chiedovenia, 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 chiedovenia. Grazie. Ringrazio il moderatore, ringrazio il professor Donzelli che mi ha invitato. È bello ascoltare colleghi di diversi gruppi e trovarsi d'accordo. Si vede che ci sono delle buone ragioni, del terreno comune. Prendo lo spunto dal nome dell'associazione di cui è guidata da Alberto Donzelli, Alineare Sanità e Salute, per dire che sembrano due cose scontate, Alineare Sanità e Salute, così come sembrerebbe scontato Alineare Verità e Comunicazione. Infatti sarebbe normale, ma su questa pandemia ci sono stati dei problemi, sicuramente nel secondo caso, nell'allineare verità e comunicazione e probabilmente anche nel primo, visto che si sente la necessità di ribadirlo. L'approccio deve essere quello che, come ha detto appena adesso il moderatore, deve essere quello razionale, quello scientifico, è stato detto anche da altri, l'ha detto Laura che è stato detto che sono stati variamente marchiati di essere no vax, come se, visto che c'è un vaccino, si deve dimenticare, si devono dimenticare le cure, cosa che non bisogna fare mai, lo si fa su tutte le malattie, nessuno ha dimenticato le cure per le malattie che pure, per le quali pure ci sono vaccini, a maggior ragione bisogna farlo in questo caso perché abbiamo visto in modo chiarissimo, anche se qualcuno ancora cerca di negarlo, ma è ammesso da tutti gli istituti di sanità, appunto con l'eccezione di qualche Virostar, qualche televirologo, che il vaccino non dà copertura completa, pertanto bisogna avere un approccio appunto razionale e bisogna studiare queste cure come un approccio anche lì razionale, non si può dire sì a qualunque cosa, ma non si possono neanche marchiare le cure come abbiamo sentito fare ed è stato ricordato, ed è stato ricordato adesso appunto, il fatto di sostenere la campagna vaccinale non vuol dire essere contro le cure domiciliari, ma soprattutto essere per le cure domiciliari non vuol dire contrastare altri tipi di approccio, per cui ringrazio per chi organizza questa e chi ci esporrà i propri studi in questa mattinata perché è molto importante seguire tutto e avere appunto un approccio razionale e veramente scientifico alla tematica che è molto importante. grazie grazie senatore, adesso sempre l'onore di passare la parola ad un altro parlamentare, al senatore paragone Gianluigi di Italexit, grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio della possibilità di poter continuare un'interlocuzione che con l'amico Donzelli va avanti da tempo e mi permetto di girare soltanto brevicenni che sono di carattere politico. Allora il primo è che è stato piacevole avere la possibilità di confrontarci con i parlamentari, ma ahimè questa al netto delle belle formule non è più una repubblica parlamentare, questa è una repubblica che in nome di uno stato di emergenza che va avanti da troppo tempo e che a cavalla diverse emergenze, eravamo partiti con l'emergenza del debito per finire all'emergenza sanitaria e poi andremo a toccare forse l'emergenza climatica, consente come fosse un cavallo di troia di arrivare all'uomo solo al comando. Non dico neanche più il presidenzialismo perché siamo fuori dalla grammatica costituzionale, ma di sicuro siamo alla tentazione dell'uomo solo al comando. Senza avere il riparo di quell'architettura costituzionale che proprio perché è costituzione antifascista e repubblicana e democratica voleva impedire una situazione come quella che stiamo vivendo. Nella stella cometa, nella stella polare dell'uomo solo al comando, poi si mettono sulla scia tutte delle altre tentazioni, anche quella di poter pensare che la medicina ufficiale diventi il ministero della salute dell'uomo solo al comando. Al di là del grande dibattito sulle cure, sul modello di sanità, il problema di fondo è che si stanno saldando tutte delle tentazioni di dire l'ultima parola. La mia parola è la mia parola ed è anche l'ultima parola, è la parola definitiva. Si comprivono gli spazi di quella dialettica che mai, come nella politica, nella medicina e in altri settori di ricerca, perché anche la politica e ricerca per molti versi, sono fondamentali. Cioè la parola, lo spazio della ricerca, lo spazio del dubbio è fondamentale. Ma mai come in questo tempo di continuo stato di emergenza, noi assistiamo alla consunzione della parola dubbio, della parola ricerca. Questo è grave. E così ci dobbiamo sentire osservati, giustamente, per fortuna, da chi all'estero si pone il tema di questo strano caso Italia. Il Washington Post, che è un giornale assolutamente prestigioso, che conosciamo, parla di un caso Italia come la frontiera avanzata di sperimentazione. Io non sono contento, mentre si fanno mille dibattiti televisivi sul pericolo fascista di forza nuova, che non ha mai avuto come negli ultimi 15 giorni, così tanta pubblicità. Di contro non si dà invece riscontro di quello che un giornale come il Washington Post pubblica e con la potenza di poco del Washington Post si riverbera in altri uditori diversi dal confine americano. Noi siamo una frontiera di sperimentazione. E questa frontiera di sperimentazione vale per la politica e vale anche per il modello sanitario che ci viene imposto e che impedisce la possibilità di sondare altre frontiere. questa è la cosa grave. E faccio l'ultima considerazione. L'opposizione dovrebbe essere il cane da guardia, ma gli viene impedito il Parlamento. L'informazione dovrebbe essere il cane da guardia di quell'uomo solo al comando. Il ruolo dell'informazione, il ruolo del giornalismo e io sono più giornalista che non un politico, è questo. Fare da cane da guardia. Ma quando assistiamo alla reiterazione degli stessi errori e mi assumo la responsabilità, talvolta delle stesse bugie, allora è tale libera a tutti. Da tempo continuavamo a dire sulle mascherine che la predicazione ufficiale mainstream sulle mascherine trovava un buco nella autocertificazione, la metto tra virgolette, non è il termine più corretto, sull'autocertificazione che gli importatori di queste mascherine facevano. Dopo un po' ci ritroviamo con Procure della Repubblica che indagano. Fino al punto in cui si chiede la verità sui morti della prima emergenza Covid e scopri che la commissione d'inchiesta, e mi viene un po' da sorridere a chiamarla commissione d'inchiesta, sull'emergenza Covid ha approvato un emendamento per cui è impossibile indagare sulle responsabilità del governo italiano e della regione Lombardia rispetto a quello che accadde nella prima ondata. Allora nessuno vuole scoprire la verità. E allora la tentazione dell'uomo solo al comando si può avvalere di una mancata verità. Allora se tu non hai piena disposizione dei dati tu purtroppo non puoi fare quello che dovrebbe fare l'opposizione, giornalismo, informazione e altro. Cioè dare gli strumenti per capire che cosa sta a dire in questo paese. Quindi io sono contento delle possibilità che date di poter sondare altri campi di ricerca perché, ma vi dico anche che sarà un po' una remata controcorrente, però voi lo sapete perché l'avete già sperimentato sulla vostra pelle che cosa vuol dire provare a predicare in direzione ostinata e contraria. Grazie mille. Grazie. Anche se il nostro tentativo non è quello di remare da nessuna direzione, è quello di remare a favore della scienza e a favore della evidence-based medicine. Nient'altro. quindi continuiamo con il nostro faro tra mille difficoltà, ma noi continuiamo. Ricambiamo Parlamento e ritorniamo al Parlamento europeo e ho il piacere di dare la parola anche al parlamentare Marco Rizzo del Partito Comunista. Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare il dottor Donzelli per l'invito a questo evento e dire che appoggio l'idea dei promotori per una scienza che accetti, chiaramente col confronto, le posizioni scientifiche critiche rispetto a quelle dominanti, perché questa è proprio una condizione per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Il nostro pensiero sulla vicenda della pandemia è noto e parte da concetti basilari che fanno tutti riferimento alla sanità pubblica, da rilanciare, ricostruire, rafforzare, con investimenti seri, aumento dei posti letti, della ricerca, assunzione di medici e personale sanitario, per avere una rete importante smantellata negli ultimi 30 anni, cioè una sanità di prossimità, di base, che sia la prima interlocuzione per chi si ammala. L'evento di oggi affronta in modo lodevole il problema delle terapie precoci, dove bisogna investire, ricercare e anche informare. Va evitato l'accentramento della ricerca scientifica in mano alle grandi multinazionali, che sono in grado oggi di condizionare i governi. Purtroppo, appunto oggi, è la finanza che comanda la politica. Bisognerebbe ribaltare questa situazione. La scienza va usata a favore del popolo, non a favore delle multinazionali. Grazie. Grazie. Nel dare nel cuore del problema, sempre a livello di metodo, intanto dico anche io qualcosa per onorare gli organizzatori, è che, sempre metodologicamente, il relatore a un convegno specialmente scientifico dovrebbe dichiarare i propri conflitti di interesse. È una cosa che esiste in tutto il mondo, tranne che in Italia. Questo non vuol dire sminuire qualcuno, ma vuol dire essere chiari e trasparenti. Quindi, ho il piacere di dare la parola al dottor Alberto Donzelli, che è stato dirigente medico di sanità pubblica e adesso è coordinatore scientifico della fondazione Allineare Sanità e Salute. Grazie. Grazie. Non ci eravamo messi d'accordo, ma io effettivamente esordisco sempre con una dichiarazione di questo genere. Sono stato direttore del servizio educazione all'appropriatezza e medicina basata sulle prove della ex ASL di Milano. Sono stato anche membro per un triennio del Consiglio Superiore di Sanità. Sono pensionato da cinque anni, lavoro a titolo gratuito, pago l'affitto in una sede sanitaria pubblica, non ho conflitti di interesse da dichiarare. Sono membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute che si regge sul lavoro volontario e gratuito, non solo del Consiglio Direttivo, ma anche del Comitato Scientifico e degli autori delle pubblicazioni e che non presenta conflitto, ma ha l'ambizione di presentare allineamento con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale e della salute della comunità dei cittadini. Qualcuno mi chiede se sente più volte, mi sente più volte parlare, perché anche allo stesso uditorio la ripropongo sempre. Ecco, io penso, sono d'accordo con il Presidente Sanvenero, che chi parla in pubblico dovrebbe sempre fare altrettanto, invitando anche a fare verifiche sulla veridicità di questa dichiarazione. Allora, dall'Emilia Romagna sono state pubblicate recentissimamente, le ho prese queste slide dal Quotidiano Sanità, delle videopillole con domande e risposte e quella sulle terapie specifiche dice, non esiste una terapia ad oggi riconosciuta con evidenza specifica di efficacia contro il Covid. È vero che non esiste una terapia di evidenza specifica, ma bisognerebbe dire che qualcosa con delle prove meno specifiche, ma comunque valide, esiste. Esiste un monitoraggio continuo dell'uso dei farmaci e che è trascrizione letterale, perché sono proprio brevi queste videopillole. Alcuni farmaci sono in corso di approvazione per uso legato a condizioni particolari. Penso evidentemente agli anticorpi monoclonali che sono destinati a gruppi a particolare rischio, sempre sotto controllo medico. E poi, dice, la vaccinazione è l'unico presidio specifico contro la Covid. Allora, non è che mettersi il camice e avere il logo della regione automaticamente consente di essere credibili. Se si dà un messaggio che non dà in realtà sostanza a quello che viene comunicato, la gente resta come prima, cioè se poi si ammala resta nell'ansia e se non nell'angoscia. Allora, in questa presentazione parleremo di prodotti o principi attivi che ampliano il ventaglio delle cure disponibili, che vanno anche bene per le fasi avanzate. Quello che dice l'AIFA io lo sottoscrivo, ecco, però anche a domicilio, sempre di intesa con il curante, ci dovrebbero essere delle opportunità che in effetti noi andiamo a esplorare, scegliendo quello che vi presenterò con questi criteri di massima. Devono essere dei principi attivi di efficacia molto promettente in base a studi randomizzati e controllati, che sono il goal standard per la valutazione dell'efficacia in medicina, che devono essere favorevoli e di discreta sufficiente validità. Questo è un must per quello che vi presenterò, c'è un'eccezione per ivermectina che però ha 30 studi randomizzati, 25 sono a favore e 5 a sfavore, per cui complessivamente il peso dell'evidenza va in una direzione. Integrati da studi osservazionali di rango inferiore ma coerenti con i trial randomizzati. Anche dove le prove non siano definitive, curanti e assistiti informati possono prenderli in considerazione e io quindi non sto a dire dovete fare questo, ci mancherebbe altro. La scelta spetta al curante insieme al diretto interessato evidentemente. Però il messaggio è in letteratura si trova questo ed è giusto che venne di informazione. Se non sono prove definitive devono esserci insieme delle altre condizioni, che siano sostanze sicure, primo non nocere è un must ippocratico, biologicamente plausibile la loro azione, siano principi attivi economici anche per la società, avere un costo opportunità favorevole, è una buona cosa per tutti accessibili o che possano diventarlo rapidamente e senza mega sponsor commerciali né ricercatori con grandi coisomi conflitti di interessi. Ecco le strategie anti covid che riteniamo importanti ci sono sul volantino, constano di 5 caposaldi che non vi sto a elencare, naturalmente includono le vaccinazioni con posizione centrale ma non si limitano a queste. Una delle altre 4 strategie è promuovere delle terapie appropriate che si mostrino basate su prove sicure e sostenibili. È un punto chiave proprio perché toglie la paura che ha fatto pensare troppo spesso che l'ammalarsi di covid sia quasi una condanna a morte. I principi attivi o prodotti che sono identificati senza nessuna pretesa di esaurire il ventaglio di queste opportunità che in effetti si stanno ampliando sono ivermectina che non è un prodotto miracoloso assolutamente però ha una sua utilità insieme ad altro ed è sicura, assolutamente sicura, ha le corrette dosi previste e lo vedremo per uso umano in gran parte del mondo. E poi ci sono anche budenonide inalatorio, iodopovidone ne parleremo e non si sa ma è molto interessante. Fluvoxamina che è un antidepressivo generico equivalente, indometacina che è un antinfiammatorio generico equivalente, curcumina più piperina a nove studi randomizzati controllati non è una fantasia. Paesi a basso reddito hanno investito anche in queste ricerche e hanno anche degli studi in doppio cieco che la promuovono. Nigella sativa, quercettina, melatonina e iota caragenano. Allora benvengano ovviamente tutte le altre cose di provata efficacia, se adesso saranno approvati anticorpi monoclonali benissimo. L'unica eccezione che farò è citare alla fine tra qualcosa che non ha un trial randomizzato ancora che sposi questa sostanza è una gliptina, forse tutte le gliptine, il sitagliptine. È stato visto in studi osservazionali, in uno ha partecipato il dottor Solerte, il dottor Galli, anche il professor Galli e lo cito per il motivo che capirete. Non ripeterò quello che ha già detto opportunamente il capogruppo senatore Romeo sugli studi del Mario Negri, perché non li ho citati qua? Io attendo, come ho detto dai criteri, il trial randomizzato, dopodiché prendo in considerazione quello che con il secondo studio osservazionale che ci hanno proposto adesso diventa sicuramente più interessante, cioè degli altri antinfiammatori oltre a indometagina. I criteri di massimo usati, ripeto, prove di efficacia, plausibilità biologica, economicità, accessibilità almeno potenziale se lo si vuole, assoluta sicurezza e non avere mega sponsor commerciali né forti conflitti di interessi dei primi ricercatori, perché questo abbatte la credibilità, c'è un criterio che oltre a quello metodologico andrebbe sempre incorporato nella valutazione della letteratura, purtroppo ci si dimentica. Invece questo, c'è l'asse della perfezione metodologica, c'è l'asse della credibilità dello studio. Questa è niente di meno che per due decenni direttrice del New England Journal of Medicine, vi traduco quello che ha scritto su un suo celebre libro al termine della sua esperienza, semplicemente non è più possibile credere a Marsha Angel a gran parte della ricerca clinica pubblicata o fare affidamento sul giudizio di medici rispettati o linee guida medici autorevoli pubblicate con i mega sponsor commerciali. Non mi fa piacere questa conclusione che ho raggiunto lentamente con riluttanza nei due decenni come direttore del New England. Ma perché ricerche con sponsor commerciali e ricercatori con conflitti di interesse con questi sponsor hanno meno credibilità? E allora vi ricordo tra le tante distorsioni le quattro fonti maggiori che purtroppo molti lavori che vengono celebrati presentano anche tutte e quattro insieme. Il fatto di avere sponsor commerciali è una distorsione sistematica nel senso che chi l'ha valutata come la Cochrane Collaboration nel 2012 e poi nel 2016 ha riconfermato che c'è una media più favorevole al prodotto dello sponsor quando sulla stessa molecola si siano confrontati l'insieme degli studi sponsorizzati e l'insieme degli studi invece senza sponsor privati commerciali. Relazioni finanziarie dei ricercatori principali, uno stress che è addirittura superiore a 3 tra 3 e 4 di distorsione a favore del prodotto dello sponsor indipendente dallo sponsorship bias di cui abbiamo parlato prima. Quindi sono due distorsioni che probabilmente si sommano e studi che siano troncati, trial troncati precocemente per benefici rispetto al protocollo predefinito che prevedeva magari 5 anni o 2 anni di follow up si troncano per grandi benefici dopo un anno o dopo qualche mese. E questo imprime una esagerazione del 12%, del 35% e anche del 60% in relazione al numero di eventi che si sono nel frattempo nei mesi e negli anni accumulati, gli eventi obiettivo. E un poco chiaro o inadeguato mascheramento di liste di randomizzazione è doppio cieco, anche questo è una distorsione anche se una più recente revisione ha molto attenuato il peso di questo effetto rispetto ad altri e vi dico che comunque questo può interessare anche alcuni dei piccoli studi, una parte dei piccoli studi che promuovono delle sostanze diverse da quelle dove si sta muovendo il mainstream. Per chi fosse interessato ad avere nella newsletter Deino Grazie, qui c'è il riferimento, io vado in fretta perché ho veramente tante cose da concentrare in questa comunicazione, però avrete occasione, visto che sarà tutto pubblicato e potervela rivedere, studiare perché ci sono cose che vanno assimilate con un po' più di metabolizzazione. In questa newsletter sui grandi fattori di distorsione degli studi ho spiegato di più. Allora questa è la metanalisi che viene pubblicata sul British Medical Journal. Su Ivermectina, partiamo da qua perché è quella che ha più studi, cita sette trial, notare che al momento ce ne sono trenta, ne cita sette e con un totale di 751 partecipanti, al momento sono 8-9 volte tanto i partecipanti. E classifica a variant certain, molto incerto il risultato, anche se la mortalità con cure standard confrontate è stata di 130 in questi trial e con Ivermectina è 103 in meno. Se poi era accoppiata a Doxiciclina, che è un antibiotico che può essere utile in queste circostanze, 130 in meno, cioè zero morti. Ecco, però l'OMS che dà questo tipo di informazione non dà molto peso a queste prove perché gli sembrano troppo poche. E questo insieme a Nuke che è il cosiddetto corresponding author di questa revisione e io mi sono permesso di chiedergli ripetutamente perché citasse solo quei pochi studi e non ne considerasse altri, ho considerato anche questa meta-analisi più dying che living e Semenuke, nonostante queste tre email che gli ho destinato, non ha mai risposto per cui io lo considero un not responding author, visto che non è uno che risponde alle sollecitazioni di tipo scientifico. Questo è quello che viene tuttora pubblicato sul BMJ che di solito ha ampia apertura rispetto a discorsi anche un po' fuori dal coro e questo è uno dei meta-analisti che invece ha lavorato su Ivermettina e dice ma perché questa ostilità così sistematica nei confronti di Ivermettina con questo tiro al piccione che è diventato estremamente intenso negli ultimi mesi. Ecco, questa è la situazione nel mondo, è vero, salvo alcune eccezioni che sono citate sotto, i paesi occidentali non la utilizzano ma è ampiamente utilizzata nel mondo, il 36% dei casi di Covid ne usa nella terapia e il 28% della popolazione del mondo la utilizza. Ivermettina è un farmaco antielmintico, antiparassitario ad ampio spettro, è usata anche contro i pidocchi, per questo è autorizzata anche nel nostro prontuario del Servizio Sanitario Nazionale e contro la scabbia e contro delle parassitosi che interessano dei paesi a clima diverso dal nostro però un po' anche da noi. È stata scoperta nel 1975, gli scopritori hanno il Nobel per la medicina, è nella lista dei farmaci essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che per definizione introduce medicinali sicuri ed efficaci, è molto economica, in Bangladesh è un euro al giorno il trattamento e in genere sono tre giorni e in Israele sono dieci euro al giorno, quindi è estremamente economica. Rispetto a prodotti del produttore di vermettina che Merck Sharpendom che adesso promuove Molnupiravir che costi negli Stati Uniti 700 euro per trattamento ha dimezzato la mortalità nel trial in cui è stato sperimentato però diciamo che in termini di costo opportunità è certamente diverso e che forse spiega perché Merck pur producendo i vermettina tuttora non si sbraccia a difesa di vermettina ma punta a business più profittevoli, legittimamente dal suo punto di vista ma la sanità pubblica queste cose le deve dire. Allora questo è una metanalisi real time, questa qui sì perché vedete che ottobre 21 l'ha aggiornata due giorni fa ma se voi cercate oggi c'è il 23, ecco quindi questa è veramente una living, mostra, la trovate su questo link, mostra dei benefici che è vero, nel lay treatment è un beneficio negativo, c'è un 20% come stima puntuale ma un meno 6 come intervallo di confidenza più basso, quindi non raggiunge la significatività statistica se presa tardi, però se presa presto e dà dei benefici complessivi importanti. Questi sono i trial, è vero, ha 5 trial a sfavore ma ne ha 25 a favore, quindi va pesata il peso delle prove nel loro insieme. Questo è per il trattamento precoce sulla mortalità, allora dato che muoiono pochi nel trattamento precoce il beneficio è piccolo ma anche perché gli eventi sono pochi, su altri eventi invece è più interessante il beneficio e sull'lay treatment un 49% di riduzione di mortalità. Queste sono le metanalisi sui risultati di mortalità dell'ivermectina e vedete che sono tutte a favore, compresa quella dell'OMS che addirittura 0,19 vuol dire 81% di beneficio in termini di riduzione della mortalità, però dice che le prove sono insufficienti. IVMETA è questa metanalisi che vi sto mostrando che è molto aggiornata, quindi ha incorporato anche il fatto che un grosso trial sia stato ritirato e dà effettivamente un beneficio leggermente inferiore alle altre del 56%. Queste sono con risultati statisticamente significativi, ce ne sono anche altre che non danno risultati statisticamente significativi. La metanalisi recente della Cochrane e la metanalisi di Roman. Quella di Roman non la voglio molto considerare, è stata molto contestata anche per dei dati non corretti che sono stati riportati, si è chiesto di cambiare, non credo che si abbia fatto. Comunque quello che è interessante notare è che anche queste che non trovano una significatività statistica, ma come stime puntuali sono uguali alle altre. È chiaro che se invece di considerare 30 trial ne considerano nel caso della mortalità solo due, come fa mi pare la Cochrane, la potenza per arrivare a una significatività è molto minore, però i benefici sono il 40% nei ricoverati e il 67% negli ambulatoriali e buttali via. C'è poi Hill, adesso avrà molta risonanza il fatto che ha ritirato una metanalisi Andrew Hill di Liverpool e perché c'era il trial del Gazzara e lui ne ha tolto anche un altro che è quello di Niae che reagisce, dice che non era il caso di levarlo perché dice abbiamo avuto una corrispondenza e mi ha risposto togliendo questi due trial, il Gazzara l'hanno tolto tutti perché è stato ritirato dalla rivista, Niae la rivista lo tiene ma lui l'ha tolto e dice la mortalità non è più significativa, ok, non è più significativa però la tendenza è molto a favore e poi perché butti via il bambino con l'acqua sporca? Se c'è qualcosa all'interno di un trial che non ti convince fai correggere quello e vediamo cosa salta fuori invece di buttar via tutto. Tant'è, allora questo è per la Cochrane, allora la Cochrane non è più la Cochrane di una volta secondo molti di noi, a partire dal fatto che dichiarano di non avere conflitti di interesse ma Maybaum ha ricevuto nel 2020 grants da Pfizer, forse pensava di non avere conflitti di interesse con l'Ivermectina, non è possibile averne perché costa talmente poco, invece con i competitor di Ivermectina forse è più facile avere dei conflitti di interesse. Anche Crank ha dei conflitti meno datati con GSK, non li dichiara, cioè più datati, non li dichiara e questo già è un motivo per far scricchiolare un po' la mia confidenza in questo. La posizione della Rete Sostenibilità e Salute quando c'è stata la grandissima frattura con Goethe che è stato espulso con una specie di congiura di palazzo, Peter Goethe è uno dei fondatori della Cochrane Collaboration, adesso non si chiama più Collaboration, si chiama solo Cochrane e lui è stato espulso impedendo di partecipare a un consiglio dove era il più votato dei membri eletti e ha dovuto fondare all'esterno l'Institute for Scientific Freedom. Non ve la faccio lunga ma c'è stata una spaccatura verticale del consiglio in questa tumultuosa seduta che è stato un po' un agguato e questa è la posizione che poi vi andate a leggere che ha assunto la Rete Sostenibilità e Salute con su 20 associazioni partecipanti che ha detto o si riammette Goethe c'è o noi perdiamo molta della fiducia che avevamo nella Cochrane. Oltretutto la Cochrane adesso, questo è un posto di Goethe che dice caspita adesso anche il Regno Unito toglie da 2023 i finanziamenti alla Cochrane e questo fa pensare che sia l'inizio della fine perché se non c'è anche una forte componente di finanziamento pubblico questi si butteranno nelle mani dei privati per avere finanziamento e la fiducia in quel che fanno cadrà ulteriormente. Io ogni giorno, se taccio la letteratura ad ampio raggio, questo è quello che continuano a riproporre già ma con una ossessione. Ogni giorno più volte su più riviste ripropone questo trial di Lopez Medina che oltretutto è a favore di Ivermectina, non in maniera significativa ma a favore e ripropone questo come se fosse l'unica cosa che c'è perché viene considerato uno che ha alla fine bocciato Ivermectina. Peccato, chi vuole vedere le motivazioni ma non vi soffermo le trova nella slide successiva, le motivazioni critiche che io condivido. Ci sono due pesi, due misure rispetto a Ivermectina con altri farmaci approvati. Budesonide che sicuramente è utile, un innovatorio costa anche poco, è stato però approvato sulla base di un numero di pazienti relativamente piccolo come pure Rendezivir che è stato approvato sia pure in particolari condizioni e degli anticorpi monoclonali sotto ma Ivermectina che ha tantissimi pazienti in più sta ancora aspettando di avere prove sufficienti. L'esempio comunque parziale di parziale successo di Budesonide inalatorio lo prendo solo per mostrare che è un farmaco di sicuro interesse non da utilizzare subito ma come è stato nel trial principle che è quello che vi sto analizzando ha dato beneficio a quelli che lo prendevano prima di sette giorni dall'inizio della Covid se avevano un forte stato infiammatorio ed erano anziani insieme a queste due condizioni e quelli che non avevano lo stato infiammatorio che era partito prima con delle manifestazioni eclatanti avevano beneficio solo se lo prendevano dai sette giorni in avanti. Quindi gli antinfiammatori potenti presi subito rischiano di bloccare un meccanismo che nei primi giorni della fase viremica è di difesa. Ecco però era giusto per farvi vedere questo è un mega trial principle però non ha trovato una differenza significativa ma non per questo ha rimesso in discussione Budesonide. C'è una tendenza 0,75 vuol dire il 25% di beneficio per le ammissioni ospedaliere, 1,03 vuol dire che la differenza non è significativa, l'intervallo superiore va oltre l'unità però tutti lo usano ed è giusto considerarlo, ecco è un risultato interessante. Questo è uno studio italiano sui Vermectina che è adesso pubblicato credo in preprint o forse già liberato e ha confrontato quella che è la cosa interessante e che voleva dimostrare innanzitutto la sicurezza e ha confrontato dosi sei volte le massime considerate per uso antiparassitario e ha trovato che è sostanzialmente sicura. Quindi questa è la cosa che ha portato questo studio italiano. Poi la tendenza al beneficio che non è stata così eclatante però andava nella direzione giusta sulla viremia è pure rimarchevole però la cosa più importante è che tutte quelle affermazioni pittoresche date dai cavalli non agli esseri umani fanno ridere alla luce anche di questo studio italiano che mostra che dosi sei volte maggiori restano sicure e non è stato interrotto per futilità. Questo è uno studio israeliano in doppio cieco molto interessante pubblicato più o meno in contemporanea che ha visto che anche con le dosi non elevate le dosi 0,2 milligrammi per chilo quelle di uso antiparassitario riduce significativamente la viremia e riesce a ridurre la necessità di isolamento in maniera marcata rispetto a un placebo che però gli altri come tutti venivano trattati sempre al meglio delle conoscenze non è che quando si dice al placebo gli si dà acqua freca e si sta a vedere se si aggrava si dà il meglio e ci si aggiunge da una parte ivermectina ecco questa è quindi dimostra che non sono indispensabili alte dosi adesso ci sarà il battaggio perché è uscito together e together il principal investigator che è questo edward nils dice no effects whatsoever per niente nessun effetto ma crede che sia finita così andiamo a guardarci dentro invece di limitarci al titolo alle dichiarazioni o all'abstract perché i ricercatori devono leggere quello che c'è nei dati allora i dati la mortalità è 0,82 non raggiunge è vero la significatività statistica perché gli eventi non erano così tanti però averne avuti meno e anche per quanto riguarda la terapia intensiva ne hanno avuti meno non arriva la significatività statistica ma un 18 per cento in meno anche se non significativo di morti lo buttiamo via e poi c'è da fidarsi quanto di un principal investigator come mills non lo so vediamo chi è questo è un suo precedente e trial dove dichiara le sue relazioni finanziarie lo studio è sponsorizzato da pfizer lui ha è stato consulente con merck con pfizer con novartis nicomet johnson and johnson glaxo e a possiede la mac review sync che è finanziata da pfizer allora e quindi edward mills è il presidente della mac review sync e è stato un pagato consulente di pfizer allora quando gli hanno chiesto se in together il fatto che fosse oltretutto finanziato da bill gates questo together avesse influenzato le sue decisioni lui ha detto no assolutamente però è un po come chiedere all'oste è buono il suo vino ottimo ottimo insomma cioè quando ci sono questi conflitti di interesse bisogna anche avere un po di critica alla credibilità questo è una meta analisi che non viene citata in meta di santin che cita all'interno questo studio pubblicato su una rivista con impa factor in perù che è molto gravato da pagato un prezzo molto alto alla covid e vedete che quando hanno usato ivermettina in coincidenza cioè questa non è una prova ma un'associazione interessante è crollata di 14 volte la mortalità poi l'hanno interrotta perché c'è una pressione internazionale per dire piantatela lì e roba da cavalli la mortalità come come non è risalita di 13 volte però diciamo non è una prova ma fa un po pensare no e la stessa cosa pare sia successa in india in uttar pradesh l'oms riferisce che c'è stato un grande successo in questo stato indiano che ha 241 milioni di abitanti quindi sono i due terzi della popolazione degli stati uniti anzi forse di più due terzi almeno e ammette che c'è stato questo programma aggressivo utile grazie a un kit ma cosa ci sarà in questo kit cosa ci sarà in questo kit oltre ai test c'era dentro proprio anche l'ivermettina e per cui è di nuovo uno magari ci pensa e dice infatti il governo dell'uttal pradesh afferma l'uso profilatico e terapeutico su larga scala dell'ivermettina ha fatto ci ha aiutato a mantenere un tasso di mortalità e positività più basso rispetto ad altri stati che invece l'hanno negata come il kerala andiamo avanti allora questa è la nostra gazzetta ufficiale quindi life il primo passo l'ha fatto e ha ammesso nel prontuario ivers cab che è un farmaco francese adesso devono negoziare il prezzo che stagna lì un po da da mesi perché qui è il 10 di maggio che è stata pubblicata la negoziazione del prezzo consentirebbe finalmente a questa ditta francese di far arrivare sul mercato ivers cab lo legittima per la scabbia però c'è anche una legge che dice che il medico che è convinto può fare la prescrizione off label purché dica al paziente che deve essere consenziente firmi il consenso informato e se lo compra lui invece di metterlo a carico del servizio sanitario nazionale molti medici sarebbero contenti di farlo tanto è stato dimostrato che è sicuro e per per quanto poco o tanto male e non fa e può far bene quindi ci interesserebbe sbloccare questa situazione e passiamo un'altra sostanza lo iodopo vidone che è conosciuto anche sotto il nome di betadine questo è uno studio di estremo interesse giudicato di buona qualità anche da chi usa il metodo cochrane di valutazione su 606 pazienti hanno fatto ecco vedete che sono tanti peraltro gli studi sull'iodopo vidone io vi faccio vedere quello di cioduri perché è quello con il maggior numero di pazienti 606 in totale 303 contro 303 li curavano allo standard e in un gruppo si dava acqua tiepida mettersi la goccia ogni quattro ore negli occhi e nell'altro gruppo iodopo vidone diluito all'uno per cento cioè quindi oggi si trova il betadine al 10 per cento sempre d'accordo col medico se lui è d'accordo considerando questa letteratura si convince è una cosa interessante da usare soprattutto nelle prime fasi facevano anche un piccolo spray nasale gargarizzavano e sputavano perché potrebbe esserci un problema è per chi soffre di tiroide per lo iodio se lo deglutisce però attenzione lì l'hanno usato per un mese per quattro settimane e non hanno avuto problemi di tiroide alla luce delle cose che si sanno adesso probabilmente 10 giorni bastano perché dopo 10 giorni la viremia nella stragrande maggioranza delle persone non c'è assolutamente più e quindi è una cosa interessante ci sono sette studi sul sul liodo povidone con un miglioramento dell'81 per cento ma se andiamo a guardare quello più grande sulla mortalità dell'88 per cento e diciamo butta la via e cioè di fronte una malattia che fa tanta paura e un 45 per cento come pre exposition cioè se uno ha un contatto a rischio e se li metta due gocce negli occhi cioè può abbattere di non tanto però quasi di metà il rischio che sviluppi l'infezione questo qua è lo studio principale che vi ho mostrato prima e vedete che ve la faccio breve non hanno avuto quasi bisogno di supporto d'ossigeno si erano negativizzati in settima giornata quasi tutti hanno avuto una mortalità che si parla di bangladesh è una mortalità dello 0 7 per cento contro il 6 per cento nel gruppo di controllo questo è indometacina è uno studio indiano è un trial randomizzato indometacina il primo che a mia conoscenza di antinfiammatori che ha anche tra il randomizzato mi sarò lieto quando anche remuzzi farà il trial di prendere atto dei risultati con anche altri ecco adesso indometacina è accreditato di un'attività anche antivirale è stato confrontato con il paracetamolo nel gruppo di controllo è più la terapia standard in entrambi e che cosa è successo con 75 150 milligrammi di indometacina hanno avuto molto più rapidamente sono diventati a febbrili hanno avuto un numero di giorni di riduzione di tosse nettamente inferiore hanno avuto molta meno mialgia questo è più importante non hanno avuto desaturazioni di ossigeno mentre 20 dei 108 che prendevano paracetamolo hanno avuto bisogno della terapia di supporto con ossigeno questa è la sintesi dei risultati quindi ben venga ecco oltretutto ecco io dico che i danni di paracetamolo che oggi non ne parliamo ma la prossima puntata la dedichiamo al paracetamolo e ai farmaci che è meglio non utilizzare potrebbero aver spiegato il grosso beneficio che si vede a favore di indometacina fluvoxamine è un antidepressivo generico costa ormai niente neanche lui ed è in trial che si sono succeduti mostra degli effetti interessanti ecco c'è vi faccio vedere questo è polsax che è il responsabile della giornal watch per il new england sul malattie infettive e dice caspita prima efficace economico ampiamente disponibile trattamento per la covid è stato testato nel trial together è stato testato ecco attenzione together ha fatto uno una parte di studio con l'opinavir ritonavir che sono andati male hanno fatto in tendenza a aumentare ricoveri mortalità idrossiclorochina che invece è andata bene o almeno è andata nella direzione desiderata 0 76 vuol dire un 24 per cento in meno di ricoveri mortalità però la significatività statistica non c'era gioca anche il fatto che hanno calcolato male il numero di eventi e ha messo pochi pazienti perché mentre per fluvoxamine ne ha messi 750 per braccio di qua ce n'erano solo 200 rotti e quindi la potenza era insufficiente per dare un risultato un po più convincente comunque non è stato convincente e di nuovo hanno fatto definitivamente fuori idrossiclorochina anche nella finestra stretta all'inizio quando forse un ruolo lo potrebbe ancora giocare invece per quanto riguarda fluvoxamina la significatività ho detto su 739 pazienti e contro 733 c'è stata una significatività se 0 71 per cento non è così diverso dal 0 74 però però è significativo e quindi la fluvoxamina io sono assolutamente d'accordo che vada bene come trattamento precoce la curcumina allora prima che qualcuno rida dicendo eh ma queste sono delle indianerie no la curcumina a nove trial randomizzati perché ci sono moltiplicati dopo i primi a favore tutti a favore adesso vi faccio vedere e questo è il golden milk quello che vedete in basso la polvere o la sostanza intera è attiva contro una serie di virus veramente un notevole questi sono i trial sono nove nove studi di cui otto trial randomizzati controllati sono tutti a favore come vedete quattro riportano anche l'esido di mortalità un miglioramento dell'ottantaquattro per cento buttalo via e sono risultati che hanno tenuto sia in fase precoce ma anche in fase avanzata sia pure meno eclatanti però anche in quelli ricoverati quindi è molto interessante un 60 per cento di miglioramento questo è il modo con cui andrebbe utilizzata se uno non compra io non sono tanto favorevole agli integratori che magari hanno anche una concentrazione molto elevata dato che un grammo che gli è stato dato di curcumina che il principio attivo sta in 10 grammi di curcuma di polvere allora si può anche utilizzare un una combinazione casalinga purché si mettano insieme nello studio usavano piperine insieme nella stessa compressa un pochino di pepe perché aumenta molto l'assorbimento pepe nero e qui non ve la sto far lunga lo vedete nelle lo vedrete nelle slide ma fatto bene su tutta la linea e negli esiti secondari e di nuovo anche sulla mortalità in questo e in altri studi il la curcuma può dare epatite della stasi biliare allora il ministero ha fatto una dopo che ci sono stati dei casi di epatite ecolo statica ha fatto una commissione apposita ha concluso che gli integratori potrebbero soprattutto in chi ha delle patologie biliari per la curcuma in polvere ad uso alimentare no ecco quindi non c'è nessun tipo di raccomandazione precisa pur continuando il monitoraggio ma il ministero non ha ritenuto di dover mettere alcune messe in guardia la nigella sattiva cos'è la nigella sattiva non ve l'ho detto prima per evitare magari un po di sottovalutazione il cumino nero ma in quali paesi si usa il cumino nero gli stati uniti usano magari sì ma non nei trial i tre li fanno nei paesi poveri che si devono un po arrangiare li fanno in iran li fanno in turchia li fanno poveri o comunque emergenti ma non così pieni di risorse e sono stati dei trial molto interessanti a favore come vedete per cui anche il mino nero anche in olio piuttosto che in tre grammi al giorno da aggiungere alle pietanze può essere una buona idea anche perché quel prep significa pre exposition cioè se uno sa che è andato con un contatto a rischio quel giorno lì i tre grammi di cumino nero sparsi dove gli piace potrebbe essere una buona idea di prenderseli guardate un po il trattamento precoce dei miglioramenti importanti questo qui questo in questo studio invece hanno avuto solo non hanno avuto morti ma hanno avuto i ricoveri vedete la differenza in tempi di guarigione per i ricoverati tra chi la pigliava e chi non la pigliava on top di altre terapie la quercetina di nuovo prima di ridere ci sono degli studi interessanti e non ve l'ho messo perché ancora in attesa di pubblicazione ma è stato accettato uno studio su nature fatto da un italiano che di pierro per cui è una un principio interessante certo si dice ci vogliono altri studi facciamoli altri studi c'è chiaro che non c'è interesse commerciale a farli per cui si aspettiamo lo sponsor commerciale che investe contro i suoi interessi non avremo mai dobbiamo avere la sanità pubblica che si impegni e si affretta a fare degli studi poi vi farò un esempio che dimostrino oppure smentiscano se si ritiene che questi siano studi troppo piccoli non fatti in un paese occidentale se ne facciano altri più grandi in un paese occidentale insomma la quercetina se uno intanto che aspetta i risultati vuole intanto mangiarsela introdurla in cibi ecco questi sono dei cibi che sono ricchi la netto i capperi tantissima cipolla rossa però qua usavano quercetina fitosoma che aumenta molto l'assorbimento e questa è la melatonina 11 studi sulla melatonina c'è la melatonina questi sono no scusate 5 trial randomizzati controllati la melatonina di estremi interessi si sono moltiplicati gli studi ed ha dei risultati 73 per cento di miglioramento nel trattamento precoce però anche nel tardivo migliora più o meno nella stessa dimensione è un trattamento adiuvante non è che uno alla coglie prende solo la melatonina però non se la dovrebbe far mancare alle dosi non eroiche usati in questi trial ognuno in un usavano 6 6 milligrammi si magari capita che una notte che un insonno ne prende tre questi casi ne prendevano sei due volte al giorno però sono cose interessanti da sapere poi il medico e l'interessato scelgono e non sono io di a dire fatelo questi sono i risultati sulla mortalità buttali via un 79 per cento di miglioramento in quattro studi sulla mortalità questa è di nuovo un esempio poi ve lo guardate di che cosa ha fatto in uno studio in particolare e questo per finire lo io ho quasi l'ultimo l'iota carragenano è un c'è un solo studio però è interessante perché un grande trial pragmatico in argentina pragmatico sarebbe il meglio nel senso che per capire l'efficacia pratica si fa un trial pragmatico niente criteri di esclusione si fanno entrare tutti che erano abbastanza tanti erano lavoratori della sanità e hanno visto che effettivamente aveva un 80 per cento di miglioramento nei confronti di chi non lo prendeva è un gel che si spruzza nel naso se una in una situazione ad alto rischio è una spruzzatina due tre volte al giorno migliora notevolmente la situazione un estratto di un'alga il in italia c'è pure e si chiama non vi dico il nome commerciale ma se chiedete in farmacia c'è al momento solo col nome commerciale però non costa tanto per finire ho detto che facevo un'eccezione per il sitaglipin per un motivo perché qui c'è solerte c'è massimo galli che ha fatto questo trial questo studio molto interessante che osservazionale sugli sui ricoverati allora il ricoverato e ci si può attendere che abbia meno beneficio da una sostanza che ha questo meccanismo d'azione che è una proteina proteasi che disattiva la serratura dove la spike si inserisce quindi è molto interessante impedisce di mettere dentro la chiave della spike nel recettore delle cellule e è interessante che c'è stato anche in questo studio tardivo praticamente un dimezzamento come vedete della mortalità e anche di altri esiti anche le dimissioni ospedaliere sono state più precoci questo è un medico di famiglia partenopeo che penso stia assistendo onore alla sua intuizione oltre a quella del professor solerte di aver detto guardate che ha un meccanismo d'azione di estremo interesse andrebbe studiato lì si è fatto ricevere da deluca chiedendo di fare uno studio poi è scritto all'aifa l'aifa risposte facevo l'esempio dice sì è interessante ma ci vorrebbero 200 mila euro hai capito è 200 mila euro se uno con 300 pazienti a cui riserva il molnupravir della merche che adesso arriverà è interessante per l'amor di dio è un anticorpo monoclonale uno lo prende per bocca quindi è molto più maneggevole di tutti gli altri che si devono inoculare però è un ordine di grandezza ben diverso come costi rispetto al citagliptin che sono 20 euro per 10 i 10 giorni costano 20 euro cioè è preso per anti diabetici e i soggetti che lo usa è assolutamente sicuro anche come antidiabetico preso tutti i santi giorni ma per questo scopo e per il tipo di meccanismo d'azione vale per 10 giorni chi l'ha usato d'intesa con i diabetologi che lo prescrivono perché oggi è a prescrizione dice caspita risultati molto buoni varrebbe la pena di verificarli con uno studio di qualità idonea e nell'interesse della sanità pubblica io credo che vada spezzato una lancia perché 10 giorni di citagliptin costano 21 euro è un monoclonale costa ben diverso il monoclonale va iniettato salvo il molnupravir che arriverà spero l'iniettore va formato se va a casa il medico di famiglia deve essere pagato deve avere l'adrenalina pronta deve avere il monoclonale non immunizza mentre il citagliptin disattiva la serratura ma la spy continua a esserci e quindi la spy del virus per cui gli anticorpi si formano quindi è interessante anche da questo punto di vista il potenziale andrebbe verificato quindi è giusto chiedere di far partire un trial randomizzato intanto far partire la discussione scientifica e se i diabetologi sono d'accordo a fare una prescrizione off level visto che spetta a loro la prescrizione di intesa con un medico di famiglia che ci creda si potrebbe già cominciare a fare qualcosa è di studio controllato vi ringrazio grazie 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 alberto e qui si evince chiaramente quello che è il significato la medicina non è una scienza esatta si basa sull'evidenza e l'evidenza è anche potrebbe essere un ritrovamento casuale a cui poi seguono gli accertamenti clinici la penicillina l'hai stata trovata così è un esatto un laboratorio che è partita adesso sintetizziamo l'antibiotico poi sono arrivati ma si ritrovano nella vita e nell'osservazione del fenomeno quindi voler negare l'accertamento di ciò che si evidenzia in realtà è una follia dal punto di vista dell'arte medica ora continuo a dare la parola al dottor alberto con contri che manager della comunicazione e docente di comunicazione sociale grazie grazie a tutti buongiorno allora vi spiego io sarò brevissimo perché in realtà chi ha preceduto soprattutto gli interventi anche dei parlamentari ha già detto tutto quello che devo dire io nel senso io sono manager della comunicazione insegno comunicazione sociale da 25 anni ma quello che è interessante è che io ho lavorato per 21 anni nella più grande multinazionale specializzata nell'informazione della classe medica dal 72 al 93 quindi pur non essendo medico ho dovuto studiare tanta di quella roba per insegnarla ai medici italiani quindi ho qualche di qualche batti becco ultimamente con qualche illustre virologo e mi è venuto comodo dirgli guarda che quello tutto quello che hai imparato tu quando hai cominciato a fare il medico è passato dalla mia scrivania mi fa piacere ricordare che il primo documentario scientifico che parlava di queste strane polmoniti interstiziali che si verificavano nella comunità gay di san francisco l'abbiamo fatto a quattro mani col famoso professore aiuti che era il più famoso immunologo italiano persona severissima che voleva lavorare soltanto con la mia squadra perché aveva capito che c'era qualcuno che riusciva a trasformare i concetti semplici proprio concetti molto complessi come quelle relativi al 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 immunologia io quello che posso osservare è che dal punto di vista della comunicazione io trovo sorprendente che in questo anno praticamente c'è stata una narrazione assolutamente dogmatica soltanto di una di una certa tendenza e quello che mi ha colpito ulteriormente ma è già stato anche detto è che tutti i virologi italiani sto parlando di quelli italiani che intervengono spesso sui giornali intervengono in tv primo non dichiarano siano conflitti di interessi e due purtroppo sono persone che hanno un h index molto basso l'h index è quel parametro che testimonia diciamo l'entità del lavoro scientifico fatto da un da un medico da un ricercatore anche lì bisogna stare a vedere perché è un fatto statistico se uno dirige un grosso ospedale o un grosso centro di ricerca in realtà il suo nome compare sempre insieme a tutte le ricerche dei suoi collaboratori quindi ha un h index molto alto però prendiamo due che non voglio citare che però dicono che l'ivermettina non funziona e hanno un indice di 23 quando l'indice minimo di accettabilità è 80 allora io mi domando ma questo signore con questo professore con quale autorevolezza e perché con questa tigna tutti i giorni dice che l'ivermettina non funziona allora la delegittimazione di queste cure che come è stato dimostrato adesso dal dottor Donzelli stanno cominciando in giro per il mondo ad avere delle 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 prove efficaci e serie e conformate da lavori scientifici francamente allora uno si fa delle domande dice ma allora cosa c'è dietro io non voglio dare la risposta però mi faccio la domanda ecco perché a questo punto siccome la scienza è a base di dubbi e di e di e di conflutazioni come diceva popper una scienza deve misurarsi con i suoi possibili errori immunizzando se stessa contro le critiche per risultare a parezza sempre vera non è una scienza quindi oggi noi abbiamo una cosiddetta scienza con l'h finale che ci viene sempre ripetuta nei toshò televisivi in realtà non è semplicemente una una favoletta ripetuta per interessi perché chiaramente ci sono degli interessi o quando qualcuno mi dice ma tu sputi nel piatto dove hai mangiato per 21 anni ma io ho lavorato con tutte le più grandi multinazionali farmaceutiche però va anche detto che in quel periodo e fino a una ventina di anni fa si trovavano dei grandi farmaci di grandissima utilità che poi per grandi patologie molto importanti perché bisogna dire che le grandi case farmaceutiche sono state tutte fondate da ricercatori dottor abbott il dottor roccia eccetera che hanno trovato per un certo periodo di tempo i primi vent'anni un equilibrio tra il business e la ricerca di un farmaco utile per tutti allora ne ricordo uno per tutti quando mio padre fu operato di ulcera tanti anni fa operare di ulcera purtroppo era una cosa comune adesso nessuno si usa di ulcera meno che non abbia dei guai particolari perché da quando sono stati inventati gli inibitori della pompa protonica uno si prende l'omeprazolo e per dieci giorni e francamente i suoi problemi di stomaco 90 per cento sono 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 superati ma voglio dire per tante grandi patologie sono state trovate delle soluzioni cosiddette breakthrough cioè le grandi rotture evolutive che hanno allora la l'azienda farmaceutica che deve e va detto anche questo è per trovare una molecola che funziona ne deve buttare via 10.000 quindi tutti gli anni che ha speso per fare ricerca quando poi trova quella che funziona la vende su scala mondiale recupera tutti i soldi che ha speso e poi comincia a farci quattrini se da un po di tempo questa parte non si trova più niente di così rilevante se noi andiamo a vedere la grande quantità dei farmaci sono piccole modifiche di farmaci esistenti adesso non dobbiamo generalizzare troppo ma è così e allora stupisce il fatto che per cercare di vendere ciò che c'è si delegittima ciò che esiste che però costa molto poco allora quindi noi ci troviamo di fronte a questo aspetto tutto quello che ha elencato stamattina il dottor donzelli costa molto poco rispetto a farmaci che già si diciamo adesso faremo anche questo quell'altro però saranno farmaci che costano 10 volte 20 volte 50 volte rispetto a questi quindi a questo punto è corretto e qui andiamo praticamente alla fine di questo mio semplice intervento e noi dobbiamo chiedere soprattutto ai politici soprattutto ai parlamentari ma alle istituzioni della salute che ci sia un luogo neutro dove potersi confrontare l'altra cosa critica che sta succedendo oggi è che i medici che si permettono pubblicamente di esporre qualche critica perché sulla sull'attuale politica governativa vengono addirittura radiati ma quello che fa più impressione che illustri personalità non so si rende pollard che il direttore del vaccino group di oxford che dice guardate che l'immunità di genere è un mito non si può raggiungere piuttosto che altri autorevolissimi peter dosi che il senior editor del british medical journal piuttosto che quildorf che un altro importante virologo di oxford insomma tutti questi signori noi non li vediamo sui giornali nostri e vediamo sempre questi virologi con 23 40 50 massimo di h index quando questi hanno 190 180 160 e sono ritenuti autorevoli nel caso di montagné e di altri sono ritenuti addirittura rimbecilliti allora bisogna dire che il povero montagné così bistrattato è stato il primo a individuare nel virus quattro sequenze messe in maniera artificiale e nessuno lo ha potuto contrastare comunque non voglio invadere il campo dei medici perché non è il mio e quindi l'appello che ci sentiamo di fare alle istituzioni della salute alla politica di e quello di individuare un luogo neutro in cui i medici e scienziati possano confrontarsi con spirito liberamente critico sulla base di evidenze scientifiche controllate e soprattutto liberi da conflitti di interessi questo è quello che chiediamo e non non mi sembra che sia una richiesta affatto peregrina e devo dire che i parlamentari che sono intervenuti all'inizio hanno confermato questa esigenza grazie grazie alberto ora apriamo a eventuali domande al dibattito e durante il quale deve intervenire anche un altro parlamentare un altro deputato di sarli doriana che è nel misto ma mi dicono che collabora con alternativa c'è quindi abbiamo fatto proprio tutto lo schieramento costituzionale presente in parlamento dalla sala domande prego onorevole grazie grazie io purtroppo sono in treno e come ho detto al professor donzei ovviamente ma luccio comunque vediamo sì perché sono in una galleria difficile magari intervengo tra poco ora va bene ora va bene ora va bene ora va bene grazie ok perfetto allora niente volevo dire che appunto vi comunque vi ringrazio io sono assolutamente d'accordo che il dibattito scientifico debba uscire da questa diciamo dal mainstream e debba essere un serio dibattito scientifico che che metta al centro quello che come come deve essere nella medicina un approccio multidisciplinare dove il vaccino può essere una delle ma gli aspetti critici le controindicazioni le valutazioni devono essere fatte con molta molta più cioè con molti più dati e il dibattito scientifico non può essere appiattito su cose che poi si sono rivelate anche effettivamente non non esattamente vere e quindi aderisco ovviamente all'appello della volontà di aprire questa questo dibattito anche per gli altri parlamentari al mondo della scienza nella speranza appunto che riusciamo a portare avanti le posizioni di tanti che sono state oscurate in questi mesi in questi anni e tanta gente è stata messa in ridicolo bandita dal dibattito e comunque vi ringrazio e buon lavoro bene grazie altri punti discussione della sala porta avanti credo che la eh quindi se anche i parlamentari ancora presenti volessero aggiungere qualcosa o vogliono intervenire per lo senatore eh balan fratelli d'italia questa volta lo dico bene grazie grazie sì al professor Donzelli l'ha detto nel corso della sua esposizione ma tutte queste varie terapie di cui lui ha parlato mi sembra che nell'insieme qual è la situazione attuale eh rispetto alle cure nessuna di queste viene usata eh sì forse l'ha specificato volta per volta dicendo che alcune per esempio possono essere utilizzate eh secondo la convinzione personale del del medico ma di fatto il servizio sanitario nazionale se capisco bene non usa nessuna di queste terapie questo momento eh queste terapie non sono riconosciute come delle terapie eh raccomandate però nulla impedisce che lo siano ecco ci sono delle resistenze eh che bene avete visto nei confronti di di vermictina prima ci sono state e forse con delle ragioni migliori nei confronti di un uso o troppo precoce o tardivo di idrossiclorochina per altre non sono state prese in considerazione cioè si ritiene che siano eh così eh senza prove sufficienti in realtà come abbiamo visto di prove e ce ne sono ecco bisogna eh cercare anche di eh replicare quello che non si ritiene abbastanza adeguato ma in presenza di condizioni quali la sicurezza assoluta cioè sostanze che in alcune culture hanno un uso secolare eh alimentare eh la eh quindi la sicurezza ma anche l'economicità la plausibilità biologica e il fatto che gli studi che sono stati fatti in Iran piuttosto che in in Bangladesh in India in in altri in in Turchia in altri paesi non hanno in Iraq eh non hanno dietro delle grosse eh case farmaceutiche e con dei mega sponsor commerciali che le hanno finanziati da una parte fa sì che siano studi più piccoli di quelli giganteschi però eh dalla loro hanno il fatto di non avere quel gap di di quel problema di credibilità che c'è dalla presenza di forti conflitti di interessi quindi è giusto considerarli il medico che li volesse eh utilizzare come terapia di uvanti può sicuramente farlo liberamente non è vietato e eh le autorità sanitarie farebbero bene a mio avviso a eh mettere in campo dei trial randomizzati che diano ulteriore supporto anche in un contesto occidentale mi pare che anche la senatrice stabile volevesse intervenire grazie eh eh posso? sì sì ovviamente è un collega anche eh quindi grazie sì un solo un breve intervento per alcune considerazioni eh oggi stiamo parlando di terapie eh non proprio specifici che a me sono ammirate alla covid bisogna dire bisogna anche ricordare oltre a questo e l'impegno in questo senso è non solo quello di continuare a promuovere un dibattito aperto e aggiornato su queste cose ma anche quello di eh seguire la situazione di potenziamento del servizio sanitario nazionale vi ricordo che il cioè molti di questi malati eh probabilmente sono aggravati non solo per la mancanza di cura più o meno specifica ma proprio perché abbandonati abbandonati a casa cioè anche perché privi di tutte quelle misure che eh eh idratazione e alimentazione e aggiustamento delle terapie tutte quelle misure che di supporto che comunque sono utili soprattutto per la per il benessere e la sopravvivenza degli anziani e in questo senso il eh le carenze in generale il servizio sanitario nazionale sono bene evidenziate con la covid ma erano evidenti anche prima quindi l'impegno credo da parte dei parlamentari deve essere anche quello con l'applicazione delle PNRR con la riforma delle medicine territoriali ma non solo anche degli ospedali l'impegno è anche quello di riuscire a seguire queste cose io cerco di fare noi cerchiamo di farlo nella dottesima commissione del senato in modo da eh rimettere in sesto un sistema un servizio sanitario nazionale che certamente ha molto sofferto negli anni precedenti e evidenziato tutte le sue carenze con la covid grazie grazie a lei dottoressa senatrice che rivolgo con entrambi i titoli ci sono altri interventi altre persone vogliono parlamentari della sala chiunque bene allora prego buongiorno sono Lorenzo del Moro sono medico e volevo chiedere al dottor Donzelli eh secondo lei quale potrebbe essere un modello eh organizzativo sanitario che ha vantaggi sia i cittadini ma tutti gli operatori sanitari nella loro complessità e e so che eh la fondazione allineare sanità e salute punta proprio a questo e quindi secondo lei come dovrebbe cambiare l'organizzazione per che tutti eh ne possiamo eh ne possiamo trarre vantaggio grazie grazie della domanda in realtà più che un cambiamento organizzativo eh occorre un cambiamento dal nostro punto di vista del sistema di eh premiante nel senso più lato cioè del modo con cui gli attori in sanità sono pagati hanno lo sviluppo di carriera hanno prestigio hanno riconoscimento oggi come dice la nostra fondazione eh allineare sanità e salute è un un obiettivo è la nostra mission ma non è così oggi la sanità ha gli interessi che non sono a favore e cioè non sono eh eh non sono riconosciuti se c'è più salute paradossalmente se ce n'è meno cioè quindi è una cosa molto eh disfunzionale che eh fa sì che eh se c'è eh la scienza e la coscienza che vanno in una direzione che vanno in una direzione però gli interessi non eh supportano cioè gli interessi sono più alla malattia che è quella per cui si viene pagati gli interventi come conseguenza di un mancato stato di salute che eh 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 legati alla salute per cui bisognerebbe dal nostro avviso eh riformare in profondità il sistema premiante a partire da quello di remunerazione dei professionisti in sanità e delle organizzazioni che gli danno lavoro poi la il modello organizzativo dopo che è stato messo a a posto il sistema premiante quindi si ha la scienza la coscienza e gli interessi che sono allineati e vanno nella stessa direzione che è quella della salute più c'è salute più si guadagna più l'ospedale e prospera più il professionista ha delle entrate e allora poi i comportamenti si adeguano e anche la organizzazione interna delle strutture sanitarie si deve adeguare per restare competitiva oggi accade il contrario che gli adeguamenti organizzativi non sono finalizzati alla salute ma quello di dover restare a galla con il sistema di remunerazione che oggi è riconosciuto alle organizzazioni. quindi questo in estrema sintesi poi chi si volesse documentare su questo la nostra fondazione è nata per questo e c'è tantissima eh letteratura e eh contributi che potete attingere visitando il nostro sito e eh cercando nello specifico eh i convei che abbiamo fatto su questo. grazie a te è proprio il futuro nei giovani colleghi noi c'è una scaletta un po' più quasi eh e giovani perché bisogna mantenere il dubbio bisogna mantenere lo spirito critico e bisogna mantenere la capacità di osservazione. guardare visitare le persone poi arriveranno anche la parte strumentale gli accertamenti positronici come li vogliamo ma il medico sta a fianco al paziente lo visita lo segue e non esiste che un medico si rifiuti di vedere un paziente se non ha un tampone negativo sono già Maria vedendo e sono un giornalista e volevo chiedere due una cosa ad Alberto Contri. tu ogni tanto scrivi spesso su vari racconti eh richiami l'attenzione ma la domanda che mi viene spontanea avendo sentito queste cose e quindi tutto quello che è emerso come hanno anche i commenti che sono venuti dai in particolare dagli ultimi due interventi di Malan e dell'altra senatrice eh è la domanda è questa la domanda come possiamo fare concretamente chi fa comunicazione eh supportare e fare in modo che queste cose diventino di eh si sviluppino cioè vengano ascoltate da più gente perché altrimenti resti la la percezione che io ho è che resti in un ambito abbastanza eh ristretto non dico autoreferenziale ma non è che non è così però ecco vorrei capire come possiamo fare per ehm dare un contributo insomma Ma far sapere che queste cose ci siano. Sì, purtroppo bucare questo muro che si è creato tra grandi quotidiani, che peraltro negli ultimi dieci anni la lettura dei quotidiani si è letteralmente dimezzata, quindi non è che hanno poi questa... Però insomma sono tutti univoci, salvo se noi prendiamo la verità e il fatto che sono due giornali di orientamento politico opposto, che sono gli unici che raccontano queste cose che sono state dette anche stamattina, negli altri non troviamo. In televisione ancora meno, però io vorrei anche far notare una cosa. Se vogliamo dare una lettura sociologica sull'aspetto di queste proteste che stanno nascendo nelle piazze, al di là delle strumentalizzazioni estremiste che abbiamo visto, eccetera, come mai ogni settimana il numero delle persone che protesta raddoppia? E poi se avesse visto, chi avesse visto per esempio la diretta della manifestazione di Milano, osservando attentamente le persone, come erano vestite, chi erano famigliole con i bambini, con i bambini sulle spalle, in carrozzina, non erano dei terribili estremisti che andavano a gettare le bombe Molotov. Queste persone in realtà si informano sui social network, per quei social network che ancora non censurano come a me censurano. E qui dovremmo aprire anche un altro capitolo. I cosiddetti siti di debunking, che sono quelli che dovrebbero strillare contro le fake news, io ho fatto una piccola ricerca, ho anche scritto a loro e alla fine scopro che sono tutti finanziati indirettamente, anche loro, da chi finanzia le case farmaceutiche. Allora, l'altra cosa che ho dimenticato di dire prima, ripeto, io non voglio parlare per principio delle case farmaceutiche, che, ripeto, hanno trovato e trovano farmaci di grande utilità. Però, nell'azionariato delle case farmaceutiche, mentre prima, ripeto, c'erano i fondatori, poi c'erano i figli, poi alla fine sono entrati i grandi fondi di investimento. Adesso noi abbiamo, nella maggioranza, per esempio, della Pfizer, abbiamo il fondo BlackRock, che da solo, con tutte le sue diramazioni, praticamente gestisce quasi metà del PIL mondiale, quindi già la dice lunga. Poi abbiamo il fondo Wellington, abbiamo il fondo Vanguard, abbiamo la Deutsche Bank, che sono tutt'altro che degli enti di beneficenza e che hanno come principale obiettivo il profitto. Allora, questo ha spostato, indubbiamente, la mira di molte aziende farmaceutiche. Di conseguenza, loro utilizzano tutti i mezzi possibili, immaginabili, consulenze con virologi, pubblicità sui giornali, pubblicità alle veste televisive, quindi di conseguenza la narrazione che arriva è questa. E devo dire, finanziano anche indirettamente, sono presenti, per esempio, sia in Facebook che in Google, eccetera, eccetera. Quindi capite che l'orizzonte non è dei più semplici a far passare, non dico una verità alternativa, ma un'altra verità o comunque qualche altra obiezione, che ripeto, in realtà poi sono fatte da personalità di livello scientifico altissimo, che sono direttori di riviste scientifiche, giornalisti di riviste scientifiche, grandissimi virologi di livello internazionale. E queste voci non le ascoltiamo mai, l'ho già detto. Devo dire che queste persone che si informano in questo modo, c'è un parallelismo tra le primavera araba, per carità, tutt'altro contesto, tutti altri argomenti, e quello che sta succedendo da noi. Cioè, più gente pian piano acquista coscienza di cosa sta succedendo, delle ipotesi possibili che ci sono, eccetera, eccetera. E a questo punto, quando riscontra che nella vita di tutti i giorni, e in quello che gli viene detto in tv, le cose non tornano alla stessa maniera, giustamente a questo punto comincia addirittura. E quindi il risultato di demonizzare, io questo lo trovo anche, io mi sono occupato per vent'anni, anche di etica pubblica, perché ho fatto il presidente di pubblicità progresso per tutto questo periodo, e ci siamo battuti per la coesione sociale, per campagne sociali che promuovessero sia la coesione che l'etica pubblica. Sentire, discriminare una parte della popolazione che viene accusata, anche le persone che si permettono di fare una critica, c'è un terribile no-vax quando uno non è affatto un terribile no-vax. Questo vuol dire gettare uno stigma addosso alle persone, di decidere che c'è una parte della popolazione che è un reietto, che è un untore, soltanto perché magari per diversi motivi ritiene di non doversi vaccinare, che ce ne sono, per carità. E quindi, che cosa sta succedendo? Avviene una divaricazione, e aggiungo un'ultima cosa, c'è un network professionale che si chiama LinkedIn, dove in genere si va per cercare lavoro, fare offerte di lavoro, parlare di questioni di business e di affari e di lavoro. In realtà, ultimamente, sono aumentati a dismisura i post che trattano questi temi, ma anche con migliaia e migliaia di post e di lettori, voglio dire, addirittura 20.000-30.000 letture, che sono una cosa spropositata. Io quando scrivevo qualcosa di comunicazione, mi leggevano in 8-10, appena scrivo di questi argomenti, addirittura 18.000-20.000-30.000. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una classe dirigente, non sono solo dei poveracci che vivono nella Garbatella di Roma, piuttosto che a Quartogiaro, per dire le periferie che sarebbero popolate da ignoranti, che non è vero nemmeno questo, ma sono persone che appartengono a una classe dirigente, presidenti, dirigenti, amministratori delegati, medici, tecnici, informatici, tutta gente laureata con la testa sulle spalle. Allora, sta succedendo qualcosa che secondo me, a livello governativo, non si rendono conto del danno che stanno facendo nel non ascoltare queste persone e nel trattarle, nel volerli confinare a tutti i costi. e concludo, sono rimasto molto colpito dalla presa di posizione di questo portuale di Trieste che si chiama Puzzer, persona di una ingenuità ma di una semplicità veramente splendida, quando ha deciso, insieme ai suoi, di non scendere in piazza oggi o ieri a Trieste perché avevano avuto sentore che stavano arrivando estremisti che avrebbero strumentalizzato le proteste. Questo è un atto estremamente, che secondo me è spiazzante da un certo punto di vista perché probabilmente posso dire che anche io quando analizzo i grandi media, i grandi TG che parlano, quando hanno dato questa notizia sembrava che fossero un po' dispiaciuti perché non potevano commentare qualche grosso caos che sarebbe successo. Arrivo ad affermare questa cosa qua. E quindi attenzione perché tramite i social, finché si può, si riesce ad approfondire e ad avere informazioni che i media mainstream, come si dice, purtroppo non ci danno. Grazie. Milena, buonasera, sono una giornalista e volevo chiedere, le cure precoci, si parla veramente poco delle cure precoci, c'è una fascia di età in particolare in cui c'è una risposta eccellente sulle cure precoci, sono consigliate anche ai più giovani solamente alle persone con patologie, a chiunque, ecco, qual è la direzione delle cure precoci? Se lei guarderà poi le slide vedrà che ci sono delle terapie che hanno funzionato prevalentemente come sempre in fase precoce, però anche in fase avanzata. Hanno qualcosa da dire, alcune molto, quindi quello che è stato presentato. È vero che non ha un'azione specifica nei confronti della Covid, ma questo è anche un elemento di interesse, perché ha un'azione molto più vasta nei confronti di tante virosi, di tante condizioni patologiche, e quindi è di grande interesse come terapia adiuvante per tutte le fasce di età. Poi indubbiamente il giovane risponde meglio, quello che è più pluripatologico ha meno risorse da mettere in campo, però in questi studi, se lei vedrà anche le fasce d'età, sono molto differenziate. Come cura preesposizione nei sanitari ci sono fasce giovani e adulti e tanti anziani tra i ricoverati che ne hanno beneficiato. Quindi non mettiamo limiti, un esempio, l'iodopovidone. È vero che non è specifico e va usato su consiglio medico con determinate attenzioni, ma è interessantissimo perché non ha resistenze note. Cioè l'anticorpo monoclonale, quando è efficace e ovviamente quelli che saranno approvati lo saranno, però ha una durabilità limitata perché agisce nei confronti di una parte del virus molto, molto limitata, pochi amminoacidi, è ancora più specifico del vaccino, che è più specifico di un farmaco. L'iodopovidone è universale, cioè non c'è germe allo stato delle conoscenze conosciuto che resista. Ed è quindi un'applicazione che si presta a tanti utilizzi e in questo caso ha documentato un effetto veramente potente, drammatico. aggiungo una cosa generale, culturale, storica. Ai tempi probabilmente in cui anche il dottor Donzelli, non i miei, ma quelli di mio padre e probabilmente del dottor Donzelli, il medico studiava botanica. Cioè il perfezionamento, l'attività di purificazione dei principi attivi è una cosa che arriva dopo. La natura crea i problemi e i rimedi e i problemi in una alternanza complessiva. Fa parte di filosofie anche, il bene e il male, il buio e la luce. La natura prevede sempre gli opposti. Materia e antimateria. La natura prevede sempre gli opposti. E così ha a che fare anche con la biologia. E la medicina che si occupa della cura. Che è osservazionale. Dobbiamo osservare, dobbiamo vedere, dobbiamo verificare. Serve il tempo del controllo. Perché non è una scienza matematica in cui con un'equazione sappiamo prevenire in anticipo tutto quello che accadrà nel futuro. E questo si ottiene attraverso il dibattito, che è quello che stiamo cercando appunto di lanciare. Non posizioni appunto, come diceva il professor Conti così, campate per aria. Semplicemente nel dibattito, nel confronto. Sono secoli e secoli che la medicina è evoluta solamente in questa maniera. E adesso invece manca il dibattito, il confronto e l'osservazione critica. di tesi e posizioni differenti. Io non ho competenze specifiche, ragiono di metodo e di metodologia per affrontare le problematiche. Quello invece la conosco molto bene. E ci manca, ed è il motivo per cui ho dato il mio minimo contributo a cercare di portare avanti di questo lavoro sulla evidenza medica. Altro? Bene, allora, direi che è stata una mattinata estremamente interessante, ricca di spunti, sia dal punto di vista politico, generale, e quindi ringraziamo tutti i parlamentari che hanno dedicato il loro tempo per interessarsi a queste cose che poi speriamo riescano a tradursi anche in azioni concrete da parte dello Stato, perché come diceva il nostro ultimo premio Nobel, il dottor Parisi, la sovvenzione pubblica alla ricerca è un elemento indispensabile, perché giustamente i privati cercano di fare anche il loro interesse. Mi sembra pacifico. Non ci si può aspettare che i privati vadano contro il loro specifico interesse. Ed è il pubblico, invece, che dovrebbe ampliare e fare quel tipo di ricerca sovvenzionata, quindi con le casse pubbliche per l'interesse generale. Quindi questa è la sollecitazione che rimettiamo ai nostri rappresentanti politici. Per il resto, sulle relazioni tecniche e sulla comunicazione io proprio non mi sento di poter dire nulla se non chapeau. Cerco di non usare termini stranieri, voglio sempre l'italiano, però rende meglio l'idea. Grazie a tutti della vostra partecipazione e ci rivedremo presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.